Un piano specifico per prevenire gli incendi nelle pinete del litorale di Grosseto e Castiglione della Pescaia lo hanno siglato la Regione Toscana, i Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scarlino e l'Unione dei Comuni e interessa un'area di 3673 ettari, quasi tutti boscati, ad alto rischio per la fitta presenza di insediamenti e strutture turistiche su cui realizzare fasce parafuoco, eliminare le piante morte o indeperimento e contenere così i rischi di incendio. Lo dobbiamo fare molto bene in aree come questa, dove chiaramente all'interno delle aree boscate ci sono attività turistiche dove vivono persone e dove l'attenzione non è mai troppa. Il piano illustrato a Castiglione della Pescaia è uno dei 20 piani specifici finanziati nel 2018 dalla Regione con 450.000 euro per le aree più a rischio della Toscana, come le pinete costiere, le aree interne e il comprensorio del Monte Serra devastato da un violentissimo incendio nel settembre dello scorso anno. Nel Grossetano negli ultimi dieci anni gli incendi sono stati 426, la maggior parte nel 2012 e nel 2017.